Intanto facciamo partire la GoPro che è qua in alto Diversamente da quello che fanno in tanti, non faremo stupidate Non metteremo a rischio la vita di nessuno Tiziano terrà sempre le mani sul volante Non ci sarà bisogno di dimostrare che la macchina sta andando da sola, sta mantenendo la corsia da sola Perché semplicemente diremo La macchina sta andando da sola, ma le mani resteranno sempre sul volante Guarda che bella, bellissima Eccoci qua Allora abbiamo la doppia ripresa Apro che sta andando Allora cosa fa l'autopilot? È giusto chiamare l'autopilot? No, è una guida assistita Perché l'autopilot in quanto tale dovrebbe avere dei sistemi di sicurezza ridondanti Quindi questo serve semplicemente per aiutarti nella guida Ma tu devi sempre stare vigile Quindi tutti quelli che vedete che fanno i video dove si mettono dietro, fanno le stupidate No, non è quello che vogliamo fare Anzi, è pessima pubblicità per i sistemi di guida automatica Questo è semplicemente un supporto alla guida tradizionale Serve per guidare meglio, più rilassati E darti una sicurezza in più quando stai guidando tu E adesso stiamo scendendo lungo la strada del Ceneri Andiamo a prendere un pezzo di autostrada per provare le varie funzioni dell'autopilot Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.